Buongiorno dalla redazione del Tg della mobilità. Questa mattina carreggiata ridotta sul viadotto della Magliana all'altezza di via del Cappellaccio nelle due direzioni per lavori di manutenzione su un impianto di illuminazione. I lavori dovrebbero terminare entro le 13 sempre di oggi. E in centro consueta pedonalizzazione festiva per via dei fori imperiali con la strada chiusa al traffico per tutto il giorno, deviate le linee bus, regolarmente aperta la stazione Colosseo. E infine all'Olimpico stasera ultima partita di campionato di serie A dalle 21 con Roma-Spezia. Diverse ore prima scatterà il piano della viabilità con divieti di sosta ad ampio raggio intorno al foro italico, area che si può comunque raggiungere con 16 linee del trasporto pubblico. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della mobilità.